Il negozio online di oro Global Intergold offre set di lingotti d'oro da investimento. Nel 2003 un set costava 2.604 euro, ma il prezzo cresce anno dopo anno. Nel 2010 il prezzo di un set raggiungeva 6.991 euro. Dal 2010 il prezzo di un set di lingotti d'oro da investimento continuava a crescere. Quanto costerà nel 2017? E a partire dal 2018. Il fondamento più stabile per il tuo futuro è l'oro. Global Intergold, il negozio online di oro. Diventa cliente adesso. Grazie. 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 Grazie.